...hanno voluto fare a tutti quanti noi della giornata di San Valentino, tutti quanti noi innamorati dai colori rosa e nero! Marco Toni, Lazaro, Basquets e Rigoni, grazie per essere stati con noi, vi auguriamo di passare una buona domenica. Allora, intanto l'appuntamento è fissato a Renzo Barbera per il primo di marzo, Palermo-Empoli. Andate sul sito www.palermocalcio.it per conoscere tutte le promozioni relative a Palermo-Empoli e poi la possibilità di acquistare il biglietto per donne under 18 a 2 euro e il diritto di prelazione per la partita contro la Juventus. I fassi del Palermo, posso chiedervi un regalo? Facciamo un applauso al Palermo! Grazie a Palermo! Grazie per essere stati con noi, ancora una buona serata, ancora una buona domenica, grazie! E il Palermo, come sempre, è sotto la cupola! Viva gli avvocati! Grazie a tutti! Viva gli avvocati! Un c'è il bar del... 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 Grazie a tutti.